Ciao, benvenuto a questo consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Voltem per quanto riguarda il natural gas e il petrolio. Beh, direi che c'è diciamo poco da dire per quanto riguarda l'incredibile previsione, l'incredibile precisione che ha avuto il Voltem per dire con praticamente quanti giorni di differenza? Due giorni di differenza su un ciclo da 40 giorni il massimo del gas fino a questo momento. Quindi se andiamo a guardare l'analisi ciclica, quindi con un'onda composta dai cicli che vede evidenziati, 18 mesi, 40 settimane, 20 settimane, 80 giorni, 40 giorni, 20 giorni, siamo adesso in un'importante fase ribassista. Togliendo i cicli da 20 e 40 giorni come d'abitudine, diamo uno sguardo a quella che è l'analisi, diciamo, più alla nostra portata. Noi dobbiamo sapere quale sarà il movimento per un periodo di una certa durata per poter quindi determinare eventualmente gli swing, eccetera. Il prossimo minimo interessante è previsto per il 24 di febbraio, quindi stiamo parlando di un mese, 10 giorni di contrattazione, parliamo di calendario, in questo caso ribassiste a disposizione. Vediamo che abbiamo anche uno stocastico di precomprato che fa sempre bene, poi dobbiamo cercare un'indicazione di vendita perché al momento, da un punto di vista ciclo, la direzione è ribassista. Durata media dei cicli da 80 giorni, lo vediamo, è di 74 giorni, in questo caso l'analisi è di 3 anni di storico. Quindi abbiamo una durata media di 74 giorni, cerchiamo di capire quanto sono stati in termini di durata e in giorni i precedenti cicli da 80 giorni. Quindi abbiamo questo ciclo che è già un ciclo chiuso e confermato, quindi per intenderci questo ciclo qua, e ha avuto una durata di... Anzi, facciamo così, cancelliamo le misurazioni. Ah, che idiota, scusate. Dove l'avevo messo l'altra? Immagino qui. Allora, cancello le misurazioni, invece di cancellarle le ho aggiunte praticamente in DN e andiamo a inserirle con il ciclo da 80 giorni, che come algoritmo è partito qui. Quindi andiamo ad aggiungere le misurazioni. Allora, qui, qui, qui. Gli ultimi due cicli hanno avuto una durata di 72 giorni su 74, quindi molto preciso. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci possiamo aspettare che il successivo ciclo sia, abbia una durata almeno intorno ai 74 giorni. Qui vediamo che abbiamo 66, perché in realtà l'indicatore del minimo è andato a attribuirlo qua, ok? Quindi andate a prendere questo minimo, di conseguenza abbiamo una previsione attuale che ha un ciclo leggermente più breve. Ciò vuol dire che però, se abbiamo una durata media degli ultimi due cicli, parliamo di circa sei mesi di storico, di 72 giorni, ci possiamo aspettare un 72-80 giorni, un 65, quindi possiamo aspettarci una durata che effettivamente sarà in media con quella che abbiamo avuto negli ultimi tre anni. Quindi la fase ribassista è assolutamente corretta da questo punto di vista. Adesso andiamo a vedere su TradingView quello che potrà essere un livello di prezzo e quello che potrebbero essere le azioni che il prezzo andrà a compiere per far sì che noi possiamo andare a cercare, potremo andare a cercare una componente di ribasso. Ovviamente il prezzo è totalmente sopra le medie mobili, però è andato a fare un triplo massimo, con tra l'altro un bello spike a rompere i massimi del 9 di ottobre per poi recuperarli subito. Questo è sicuramente un'azione bella, perché quello che vedete qua è un tipico massimo che il mercato va a rivedere, infatti così è stato. Prima ovviamente di passare ai prezzi, come sempre ti chiedo di mettere un like alla mia analisi, iscriverti al canale YouTube, cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato con le mie iniziative, i miei eventi di trading in diretta e anche tutte quelle che sono le mie analisi che quotidianamente vado a mettere. Ti invito ovviamente a visitare il sito internet, iscriverti al canale Telegram, il nome del mio sito è tradingpartutti.com, comunque sotto in descrizione troverai tutti i link necessari per poterti collegare al mio sito e iscriviti al canale Telegram gratuito, mi raccomando. Se stai cercando un servizio di segnale intraday sul future, sei assolutamente nel posto giusto, riceverai segnali sul DAX, il NASDAQ, il S&P, il Dow Jones, il Gold e il Petrolio. Qui vedi i risultati del mese di gennaio in corso, quindi 50 punti sul NASDAQ, 16 punti sullo S&P, 98 punti, ossia 9,8 dollari di movimento sul Gold, mese che sta andando in modo straordinario. Sentivo freddo, mi sa che il cane è entrato in casa e detto che lo ho spalancato. I profitti in termini di denaro li puoi vedere qua, questo è un conto prop da 50.000, io ne ho tre conti prop, tutti da 50.000 dollari, perché sostanzialmente ogni mese vado a recuperare i 300 euro di ingresso e vado a prendere un'altra prop. Il mese di gennaio, come puoi vedere, soltanto 1, 2, 3, 4, 5 operazioni, tutti in profitto, 3, vedi qua, 3, 2, 6 stop, 1, by stop, che sono stati soltanto il segnale che utilizzo per verificare che il bot collegato al canale Telegram sia attivo, quindi ogni tanto ve lo comunico prima di non seguire nulla. Come puoi vedere, le operazioni abbiamo fatte 1 sulle S&P 500, sul Gold abbiamo fatte 3 operazioni, e il Gold è quello che sta pagando di più, con un break-even e due target, e poi anche una bella operazione sul NASDAQ. Questa qua, ieri, un rammarico, ho messo in ordine pendente, poi ho avuto un problema personale riguardante una cagnolina che stiamo cercando di mettere in sicurezza, e quindi ho dovuto proprio togliere l'ordine pendente, peccato perché sarebbe andato a target. Con il senno del poi potevo anche lasciare lo stop c'era, al limite avremmo incassato uno stop, ma va bene uguale. Come puoi vedere, il risultato è ottimo da un punto di vista percentuale, e fa un po' tutto il conto, è una percentuale molto alta, e siamo al 2,5% in solo 15 giorni di lavoro, sostanzialmente. C'è una bella novità, fino alla giornata di domenica sera, ho riaperto la possibilità di acquistare il mio corso di analisi ciclica, più il corso di analisi volumetrica, più un indicatore Voltime, un anno intero di indicatori, invece il corso è a vita. Io il corso l'ho tolto dal mercato, non c'è più, però almeno una volta o due volte all'anno lo voglio riproporre. In offerta 1.399 euro, soltanto un anno in indicatori sono circa 450 euro, avrai accesso al canale Telegram, e ha la metodologia esatta che mi fa ottenere risultati che hai appena visto, quindi che fa ottenere in termini di denaro questi risultati, perché un conto prop chiunque lo può aprire, quindi anche se non hai capitali, con un conto prop potrai avere capitali e gestire il drawdown molto basso che è richiesto dalle prop firm. e quindi poter scalare la prop e diventare anche tu un trader capitalizzato. A profittere mi raccomando, sotto in descrizione troverai i link, comunque li troverai sul canale Telegram, che chiaramente trovi sul mio sito, e avrai anche la password d'accesso per poter entrare nella pagina di presentazione del corso e anche di vendita. domenica sera lo toglierà di nuovo dal mercato e se ne riparlerà più o meno alla fine del 2024. Andiamo adesso subito su Trading View e diamo un'occhiata a quelli che potrebbero essere i livelli sul Natural Gas. L'ho già selezionato, andiamo a levare i livelli che non servono più, che sono questo qua. Anche se questo non è il future, è uguale, nel senso che il profile tarato su il tempo, anziché sul prezzo, ci dà la stessa identica segnalazione. Questa è un'area sicuramente di alto volume, perché il mercato è rimasto in totale lateralità. Natural Gas, esatto. Ok, perfetto. E questo, come vi dicevo, è un ottimo livello dove poter iniziare a cercare delle indicazioni rimassiste. Scusate, mi vado a rimettere il profile. Vabbè, qui non va, fa niente. Lo facciamo manualmente. Questa è sicuramente l'area, come vi dicevo, importante dove determinare il livello di resistenza. Noi dobbiamo cercare di capire quando il mercato cercherà di invertire. Quindi scendiamo di time frame e andiamo ad attribuire quello che è il prezzo attuale. A mio avviso, la rottura, lo vediamo, di questo supporto, quindi stiamo parlando dei minimi della data dell'11 di gennaio, quindi sostanzialmente già di oggi, attendendo che il mercato faccia che cosa? Che il mercato compia un movimento del genere. Rottura, ritest, chiaramente di quest'area, allora possiamo andare short. Questo genere di movimento viene indicato perfettamente dall'indicatore Bolton, perché ci darà il tempo giusto per poter cercare un'inversione di mercato e la vediamo anche in maniera iperveloce scendendo su un 4 ore. Scendendo su un 4 ore, andando a generare l'onda ciclica, in questo caso patto semplicemente da 20 settimane, come puoi vedere siamo in una fase di ribasso, andando a mettere un 10 giorni, ma anche un 5 giorni sulle 4 ore, possiamo capire bene che questo genere di movimento potremmo aspettacelo indicativamente intorno al 15 di gennaio. Quindi l'indicatore ci fa capire prima quella che potrebbe essere una data di swing e quindi in questo caso diventa molto facile per chiunque aspettare, serve solo pazienza con l'indicatore Volta, e quindi andare a prendere poi questo supporto e posizionarsi short dopo un cambio della direzione primaria e quindi avere su base ciclica e anche tecnica la sicurezza che il ritest è un segnale che poi sarai tu a scegliere, oppure con l'indicatore Volta mi ti spiegherò esattamente il pattern d'ingresso, poter entrare al mercato e ottenere appunto i risultati che hai visto poc'anzi. Adesso un attimino carico il grafico del petrolio e lo guarderemo insieme. Eccoci qua con il grafico del petrolio. Anche in questo caso onda sinusoidale è composta dai cicli da 40 settimane e 20 settimane. Spero che si sia sentita l'analisi precedente. Dicevo, onda sinusoidale è composta dai cicli da 40 e 20 settimane, 80, 40 e 20 giorni. Ci poco da dire, perché il mercato è totalmente laterale, però è molto importante quello che stiamo vedendo, ossia questa trendline del ciclo a 20 giorni. Andando a togliere i cicli più grandi, possiamo determinare in maniera molto facile, vedi che i cicli non sono tutti uguali perché l'algoritmo va a selezionare all'interno di una varianza la durata esatta di un ciclo da 20 giorni. In questo caso picco del ciclo da 20 giorni, lo possiamo vedere qui, picco del ciclo da 20 giorni, picco del ciclo da 20 giorni, in maniera, scusatemi, picco del ciclo da 20 giorni, questo non c'entra niente, e possiamo quindi in maniera molto semplice andare a tracciare un'altra line del ciclo da 20 giorni. Ci sarebbe anche questo, ma ormai questo ciclo è passato e quindi non è più logico tracciare una trendline. In realtà potremmo già avere questa trendline, scusatemi, del ciclo da 10 giorni, a cui però dovremmo attribuire ancora una durata temporanea, perché come puoi vedere, sempre 20 giorni, scusami, minimo del ciclo da 20 giorni, minimo del ciclo da 20 giorni, generato dall'indicatore, e quindi la possiamo andare a tracciare. Io attenderei perché non ho ancora la sicurezza che abbia già confermato questo minimo algoritmo, quindi adesso lo andiamo a tracciare, ma la facciamo quadrettata, cioè quadrettata a linea, in modo tale di avere l'informazione importante per noi che si tratta di un minimo ciclo ancora da confermare. Il colore è ovviamente lo stesso, perché il ciclo da 20 giorni ha il colore magenta, e quindi la andiamo a tracciare, come ho visto poc'anzi, però attribuiamo appunto una linea tratteggiata, così sappiamo che è una trannare alzista provvisoria. A noi tra l'altro non serve, perché il prossimo minimo massimo ce l'abbiamo in data 19 di gennaio, per quanto riguarda un ciclo da 20 giorni, ce l'abbiamo in data 26 gennaio, per quanto riguarda un ciclo da 40 giorni, e ce l'abbiamo in data 23 gennaio, per quanto riguarda un ciclo da 80 giorni. Quindi, qual è l'unica trendline che dovremmo utilizzare? Beh, ovviamente la trendline del ciclo da 20 giorni. Mettiamo le medie mobili cicliche, il recato è ancora sotto, ma ci sono avvicinate notevolmente, potrebbero incrociare al rialzo a breve, e quindi una rottura. Qui sta un po' a te, o attendi la chiusura con il rischio di entrare un po' tardino, oppure prendi direttamente il break, che io non considero, darà via a una fase di rialzo interessante, per quanto riguarda il petrolio, e andiamo a vedere subito, ovviamente i prezzi. Quindi andiamo a prendere il, un po' riattivato, sì, andiamo a prendere il future del petrolio, 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 CL, 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 ah, più sotto. Livelli di target. Primo livello di target, beh, tutti lo capiscono, ce lo conoscono, 76,15. Questo è bruttissimo, è proprio una schifezza, che più schifezza non si può, però è evidente che il primo livello importante di target, qui siamo già su un quarto d'ora, è appunto l'area che ho appena selezionato, che è tutto questo blocco, che poi possiamo vedere, dove c'è stato del volume importante. Anche questa è un'area dove c'è stato un volume importante, vediamo se ce la fa vedere un po' meglio, e quindi in realtà potremmo avere un primo livello di resistenza, posizionato qua a livello di 75,53, 75,27. Quindi, ricapitolando, petrolio esclusivamente segnale rialzista, abbiamo ancora giorni a disposizione, perché il picco al momentaneamente del ciclo 80 giorni è previsto per il 23 di gennaio, quindi abbiamo un 12-13 giorni, in quanto è oggi? Abbiamo 11, un 12-13 giorni di possibile rialzo, al netto di una varianza, quindi potrebbe essere anche leggermente maggiore. Lo si vede anche molto bene qua sul daily, che quest'area, tra questa e questa, saranno le prime due aree di supporto interessanti da poter andare a prendere. Ovvio che anche su un 4 ore, la cosa migliore anche poi per attribuire un target, e lo imparerai iscrivendoti al mio programma formativo, e poi ne parleremo direttamente sul canale Telegram, sarà quello comunque di aspettare la rottura e il ritest, in questo caso avremo il rischio di perdere un'opportunità, ma avendo molti cicli dalla nostra e questa bella trail line del ciclo a 20 giorni, entrare al rialzo su breakout e chiusura, sarà già, mi avviso, un segnale sufficientemente sicuro per poter prendere posizione sempre con lo stop loss. Con questo direi che è inserito, ovviamente. Questo è tutto, ti auguro una buona serata. Ciao ciao, mi raccomando, clicca sotto e iscriviti al corso di analisi ciclica e volumetrica, o ai segnali intraday, o perché no, a tutti e due. Ciao ciao!